eccoci ciao e benvenuti a questo nuovo tutorial qui vedremo come gestire il layer all'interno di un file di autocad ecco è questo qui lo spazio dedicato ai layer e la loro gestione qui vedremo tutti i comandi che vedremo oggi su questa finestra e apriamo subito proprietà layer per creare un nuovo layer e capirne le potenzialità dell'utilizzo di questo strumento ecco creiamo un nuovo layer con il tasto in alto a sinistra con questa icona e vediamo che si crea una nuova riga con scritto layer 1 andiamo ad inserire ad esempio muri sezionati ecco vedrete che adesso imposterò diverse funzioni ad esempio diverse caratteristiche più che altro ad esempio come lo spessore delle linee qui voglio appunto spessare da 0.30 poi andrò a creare un altro layer con le linee della costruzione ad esempio qui posso disattivare la stampa sono delle linee che utilizzo soltanto per costruire le mie geometrie all'interno dello spazio modello ma non mi serve stamparle quindi vado a disattivare la stampa inoltre come avete visto il layer che ho creato ha preso le stesse caratteristiche del layer precedente questo qui inoltre per assicurarmi di non stamparlo posso anche congelarlo in tutti i layout che andrò a creare layer 1 ne creo un altro ancora faccio quote e annotazioni in questo caso come vedete la stampa rimane disattivata perché prende le caratteristiche del layer precedente vado a cambiare il colore vado ad attivare la stampa vado a cambiare anche lo spessore le lascio anzi 0.00 e poi ne creo altri per esempio il tratteggio dove vado ad inserire un colore ciano e lo spessore lo lascio magari a 0.05 qui quello che è importante è che cambio il tipo di linea non lascio più una linea continua ma vado a caricarne una nuova appunto un tratteggio ne scelgo magari ecco vedete qui le molteplici linee che avete a disposizione ne scelgo una semplice la vado ad inserire la vado a caricare poi la vado a selezionare e confermare come vedete in corrispondenza della colonna di tipo di linea la linea di questo layer sarà appunto diversa vado a creare poi un ulteriore layer con scritto riempimenti che saranno i tratteggi con cui andrò a riempire le parti sezionate qui non mi interessa una tratteggiata non mi interessa neanche uno spessore quello che qui è interessante invece è impostare una trasparenza di base cioè tutti gli elementi contenuti in questo layer avranno una trasparenza del 50% quindi avranno un'opacità ridotta inoltre posso impostare anche una descrizione per ogni singolo layer questo è molto utile quando devo lavorare con lo stesso file ma con più persone e quindi le persone hanno la possibilità di capire a cosa è dedicato quel determinato layer vado a riattivare qui il congelamento degli altri layer perché avevano preso le impostazioni dei layer in linea di costruzione ecco poi avete altri comandi come crea un nuovo layer congelato oppure posso eliminarlo e posso anche selezionare un layer corrente quindi impostarlo di base posso anche selezionarlo volendo anche dal menu a tendina facciamo un esempio ecco vado a creare delle linee con il muro sezionati con il layer muri sets e vado subito a riempire quindi vado a selezionare il muro riempimenti il layer riempimenti scusate e vado a riempirlo con un retino solid solid uso il colore del layer quello grigio che ho impostato 254 e lo vado a riempire e come vedete il layer è leggermente trasparente come capiamo la differenza? proviamo ecco vedete questo qui la trasparenza a zero vedete che la differenza è netta qui è molto più opaco l'opacità è al 100% e questo qui invece l'opacità è al 50% vedete la differenza? naturalmente questa trasparenza attivandola poi anche nella stampa la troverò anche nei miei elaborati e esportati posso attivare anche lo spessore delle linee per rendermi conto vedete che qui attivando e disattivando lo spessore di linee posso anche differenziare sin da subito sin dallo spazio modello i miei layer grazie allo spessore che ho impostato passiamo adesso a un file già un po' leggermente più complesso dove ci sono più layer da gestire ecco riavolo la finestra dedicata alla gestione dei layer e l'appunto in modo da non farla chiudere vedete qui già ci sono molteplici layer rispetto a quello precedente e un file già leggermente più complesso posso disattivare layer tramite la lampadina vedete posso attivare e disattivare posso oppure congelare o scongelare congelo significa che li vado a congelare anche sui layout vedete anche nei layout che ho creato oppure posso bloccarli bloccandoli come vedete gli oggetti contenuti all'interno dei layer rimangono visibili nello spazio modello ma sono leggermente più trasparenti sono meno opachi questo per indicare che il layer è presente ma in quel momento è bloccato un layer bloccato ecco vedete qui posso decidere la sfumatura dei layer bloccati posso aumentarlo oppure posso ridurla posso anche impostare il valore manualmente quello che è interessante di un layer bloccato è che lo posso utilizzare come riferimento cioè vedete il layer è all'interno ancora visibile nella situazione lo posso anche selezionare ma non posso portare nessuna modifica infatti prendo il tasto cance non me lo cancella poi mi dice anche guarda che layer è bloccato vedete col simbolo del lucchetto però gli snap funzionano quindi posso comunque utilizzarlo come riferimento riattivo risblocco i layer e qui ci sono le diverse funzioni ad esempio seleziono un layer per spegnerlo questo qui è quello con la lampadina spenta vedete basta cliccare il comando e selezionare un singolo oggetto per spegnere tutto il layer il comando in basso invece serve per riattivare tutti i layer questo qui invece serve per isolare i layer quindi seleziono magari due layer all'interno della situazione modello premo in vivo tutti i restanti layer che hanno sollezionato vengono bloccati in questo modo io ho isolato soltanto i layer che mi interessano il tasto sotto serve poi per risbloccare tutti i layer ecco poi qui posso congelare quindi seleziono il comando e seleziono un singolo elemento che va a congelare tutto i layer vedete oppure posso bloccarlo naturalmente tutti i tasti che sono sotto questi comandi servono poi per sbloccare per riscongelare tutti i layer questo qui è interessante perché posso praticamente rendere corrente il layer quindi seleziono l'oggetto che voglio rendere dell'area che voglio selezionare e lo premo in vivo dopodiché altro comando interessante è la corrispondenza layer quindi cambio l'oggetto di layer basta selezionare un oggetto dell'area che voglio cambiare seleziono poi un oggetto dell'area in cui voglio inserire quell'oggetto e premo in vivo vedete che l'oggetto viene cambiato di layer vedete che cambia appunto il colore questo qui poi il primo comando che trovate in basso è il precedente ripristo nelle impostazioni precedenti se noi avessimo apportato delle modifiche a qualche layer in questo modo andremo a reimpostare le impostazioni precedenti poi sposto su layer corrente questo qui è molto interessante il secondo seleziono il comando e seleziono un oggetto e lo sposto nel layer corrente il terzo invece questo qui che sto applicando proprio in questo momento è copia oggetto su layer quindi vado a selezionare il comando l'oggetto e il programma lo va a copiare sul layer attuale altro comando interessante è percorri layer percorri layer vedete che si apre questa finestra posso selezionare ogni singolo layer che viene praticamente non isolato bensì va a spegnere tutti gli altri layer che non vado a selezionare col tasto control posso fare una selezione multipla e quindi disattivando il ripristino all'uscita chiudi continuo perché qui ho un layer selezionato che ho spento vedete che mi lascia attivi soltanto i layer che ho selezionato con percorri layer altro comando invece congela layer nelle nuove finestre tranne in questa quindi vado a congelare nel layout tranne in questa qui questo è un comando che potrebbe tornare utile altro invece comando molto interessante unisci layer esempio qui vedete che io ho quote e quote annotazioni quote con il colore rosso e quote annotazioni col colore arancione anzi al contrario io voglio lasciare soltanto quote e annotazioni quindi quello è rosso cosa faccio? seleziono un oggetto su layer di destinazione ecco vedete qui ho sbagliato ho stato quasi per importare guardate sia sul punto di unire layer quote annotazioni e layer quote io no io voglio fare invece al contrario voglio portare quote su quote annotazioni quindi qui vado su no invio e così non succede nulla quindi rifaccio il comando seleziono l'oggetto che voglio importare sull'altro layer quindi in questo caso è quello delle quote seleziono poi un oggetto delle quote annotazioni qua mi chiede vuoi portare tutte quelle quote su quelle di quote annotazioni? sì come vedete tutto l'arancione diventa rosso e il layer quote non è più visibile all'interno altro comando interessante è elimina basta selezionare il comando appunto elimina vado a selezionare un singolo oggetto del layer che vi interessa eliminare mi si apre di nuovo questa finestra qui vado a cliccare su sì e vado completamente a cancellare tutto il layer dove era contenuto quell'oggetto ecco il tutorial è finito ragazzi vi invito a guardare anche la gestione del layer avanzata e vi saluto a presto e vi saluto